cari amiche e cari amici di outcast benvenuti ad un nuovo episodio di sala giochi io sono stefano calzati oggi vi racconterò di bloody rally show titolo di codolinea sviluppatore lituano che è un racing con visuale dall'alto con elementi di combattimento un po alla twisted metal ambientato in un mondo distopico dove questa multinazionale vuole organizzare questo programma questo campionato di rally dove i piloti oltre a contendersi il primo posto ammazzano investono il pubblico a bordo strada e si ammazzano a vicenda con armi varie un po come se fosse un mario kart ma molto più grottesco è un titolo incredibilmente divertente oltre che brutale scorretto e con una fortissima vena satirica e oltretutto è un gioco che si guida incredibilmente bene nonostante la visuale dall'alto e nonostante questi titoli spesso tendano a soffrire di una certa leggerezza di una poca cura nei feedback di guida invece qua siamo molto più dalle parti di absolute drift che lì esagerava addirittura verso una sorta di simulazione di derapata qua è un po meno croccante la sensazione ma comunque assolutamente soddisfacente e intensa il gioco è ambientato anche una trama ambientato in questo mondo distopico come dicevo dove combattiamo per vincere questo campionato assolutamente brutale dove il pubblico diventa elemento sacrificabile e quindi ci si ritroverà a passare in mezzo alla folla lasciandoci dietro scie di sangue e guadagnandone nitro perché è un sacrificio che non è poi così vano a livello di gameplay e oltretutto dà anche punti per i punti extra per la classifica del campionato quindi non tutto viene per nuocere e bloody rally show ha anche elementi roguelite nel senso che i tracciati si generano proceduralmente che è una cosa abbastanza interessante perché tendenzialmente vengono fuori sempre robe molto belle e stimolanti altre volte un po meno però tutto sommato funziona ed ha quella sensazione di costante novità che secondo me fa guadagnare longevità a un titolo già di per sé abbastanza completo perché ha un sacco di robe ha la campagna che poi si può strutturare in vari modi si può personalizzare per esempio non è così necessario usare le armi all'interno di certe gare si può anche dire no non voglio questo tipo di gare che secondo me conviene farlo perché non è gestita così bene la parte spara tutto la parte di combattimento secondo me toglie gusto a una guidabilità che è estremamente soddisfacente da provare così in purezza per pura competizione poi c'è l'editor di livree c'è ci sono delle prove a tempo sempre generate proceduralmente giorno per giorno ci sono sfide giornaliere all'interno della campagna si sviluppa questa trama molto oscura molto satirica come dicevo prima dove il capo di questa emittente televisiva ci commissionerà anche delle missioni particolari tipo ammazzare una persona che gli sta sul cazzo all'interno della folla e per questo ci darà soldi extra piuttosto che battere un determinato rivale perché lui ha scommesso su di noi e un suo collega ha scommesso su un altro ci saranno tutti questi piccoli twist piccoli accorgimenti che renderanno l'incedere del campionato sempre interessante e sempre stimolante ad aggiungersi a queste cose c'è una varietà dei tracciati e dei terreni che è ottima perché poi i terreni saranno cosparsi per esempio nei rally sulla neve ci saranno le lastre di ghiaccio piuttosto che su quelli su asfalto ci saranno macchie d'olio e quindi diventa un po' una corsa ad ostacoli con una gestione della derapata e della fisica molto bella molto figa viene voglia di fare anche solo quello infatti è anche divertente fare le prove a tempo sempre non si può scegliere il tracciato saranno sempre generate proceduralmente e ci si ritroverà contro il fantasma di chi detiene il record in quel momento perché mi pare che cambino ogni giorno quindi diciamo che giornalmente le varie prove a tempo sono strutturate su una serie di tracciati definiti quindi più persone possono affrontare lo stesso tracciato nonostante sia generato da un algoritmo quindi è molto interessante è brutale è sanguinoso è veramente una roba che riporta alla mente Carmageddon tutta quella quella serie di giochi che non hanno diciamo alcun rispetto per la vita umana è abbastanza abbastanza impressionante da questo punto di vista detto questo poi si possono procedendo con la campagna si sbloccheranno altre auto che fanno sempre il verso ad auto del rally storico piuttosto che contemporaneo che ovviamente le case madri non hanno dato autorizzazione ad usare nomi e marchi però gli sviluppatori fanno un po' il verso a questi mezzi ognuno con una sua guidabilità sempre ben differenziati poi durante le gare ci sono anche questi twist se si giocherà con le armi ci sono mitragliatori piuttosto che campi di forza piuttosto che cannoni caricati a persone quindi noi tiriamo sotto una persona diventa carne da cannone possiamo sparare contro gli avversari una roba veramente macabra c'è anche l'elicottero delle riprese che ogni tanto gli girano 5 minuti comincia a sparare sulla folla e sui sui piloti che sono sempre 8 quindi c'è anche sempre che si vive sempre sul chi va là ogni tanto esce anche la macchina del grande capo e spara raggi laser contro chiunque gli capiti a tiro quindi veramente un gioco assurdo giocabilità totale veramente ottima divertentissimo è sempre una sorpresa tutto sommato e anche il gameplay di base è un qualcosa che viene sempre voglia di giocare perché è veramente un ottimo roguelite cioè lo metto veramente vicino ai grandi del genere e c'è anche un editor ritracciati poi con la possibilità di condividere eccetera quindi secondo me è un ottimo innanzitutto gioco di corse con visuale dall'alto che è sempre materiale rarissimo soprattutto di questi tempi quindi già di per sé ottimo è vario è longevo ha un sacco di robe da fare ha proprio un bel gusto è bello giocarlo ha un bellissimo gameplay le auto hanno un ottimo peso un'ottima gestione della derapata che è una cosa fondamentale e il tutto impreziosito da questa atmosfera distopica veramente tra il macabro e il satirico che comunque è un qualcosa in più quindi ottimo ottimo lavoro codo linea bravi lituani è disponibile dal 20 febbraio scorso su steam al prezzo di 17 euro vedo adesso secondo me li vale tutti assolutamente dateci un'occhiata grazie per avermi ascoltato alla prossima ciao ciao ciao